Brusca inversione di tendenza nella giornata di ieri per Bitcoin che tenta per l'ennesima volta di rompere quella che è la resistenza in questo momento veramente difficile da breccare, 31.000, 32.000 dollari, aria di resistenza, non ce la fa e fa un super dump molto veloce e molto importante che riporta in pratica il prezzo di Bitcoin al di sotto del minimo di questa zona. che era addirittura il minimo del 23-28 di giugno, quindi in una sola giornata fa una specie di nuovo massimo e poi si riporta al di sotto del minimo di due settimane fa. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, sembrerebbe proprio che dalla giornata di ieri il mercato abbia avuto una reazione estremamente pronunciata a, insomma, quest'area di resistenza che da un po' sta in effetti bloccando il rialzi di Bitcoin. è un'area di resistenza che va dai 31.000 dollari circa ai 32, tutta questa zona ragazzi, ed è un'area di resistenza molto importante perché come vedete il mercato difficilmente sta riuscendo a breccarla. tra le altre cose coincide anche con il massimo di aprile, quindi in pratica in questo momento preciso il mercato Bitcoin ha segnato un triplo massimo, uno, due e poi tre con questa zona, con una shadow, in questo caso una specie di pressa di tutte quelle che sono gli stop degli short in questa zona. a dire la verità non sono scattate molte liquidazioni in questa zona, quindi è un po' strano anche questa fase di forte struttura ribassista. In molti hanno anche accennato al fatto che siccome il CEO di BlackRock proprio nella giornata, nelle scorse giornate, ha indicato Bitcoin come l'asset digitale, come un oro digitale, e tra le altre cose è stato estremamente positivo nei confronti di Bitcoin e devo dire la verità ragazzi, è un po' suona strano anche a quelli come me che nel 2017 si ricordavano quello che dicevano in CEO di BlackRock, cioè che Bitcoin fosse, e le cripto volute in generale, fosse totalmente legato al riciclo del denaro e le solite questioni legate alla parte, diciamo, non bella, che si, insomma, la narrativa che si trava fuori in quegli anni. Quindi come cambiano le cose? Se gli anni, vabbè, sono anche tanti, giustamente, quindi c'è anche tempo di redimersi da queste idee, però sembra anche che in molti abbiano visto questo tipo di messaggio come una specie di top, di segnale, di top signal. Perché, in sostanza, quando parlano un po' gli istituzionali in quest'ottica, esponendo le carte, cercano di buttare acqua al loro mulino e quando lo fanno, sostanzialmente lo fanno per creare appunto un pump su cui poi sellare in faccia contro, insomma, chi va a comprare. Non so, sinceramente non ho mai creduto a queste speculazioni, sono sincero, però comunque l'idea c'è. Perciò siamo arrivati a un livello di struttura su Bitcoin estremamente importante, però in questo video andiamo a vedere una cosa interessante, cioè quando il mercato va a creare una serie di livelli di resistenze, insomma, così, come ha creato su questo livello questa aria di resistenza, potrei indicarla appunto in questa zona, quando il mercato la va a consolidare con una serie di massimi, in questo contesto qui, si verifica quello che è un concetto che ho spiegato, per esempio, nel mio corso Basic 2.0 con dei video dedicati, dei moduli dedicati, ragazzi, perché è nella parte del modulo del corso che riguarda la validazione dei livelli di supporto e dei livelli di resistenza. È una cosa estremamente tecnica, ma svolta molto mentalmente e vi fa capire anche perché molto spesso alcune resistenze che prima erano, insomma, valide, a un certo punto smettono di essere valide o giù di lì. Ed è proprio in questo contesto che si va a verificare quello che spiego appunto in quei moduli del corso, ragazzi. Ed è veramente una cosa importantissima. Capite bene come, in effetti, la conoscenza di alcune cose, della formazione in generale del trading, cambia anche la prospettiva in cui si va a guardare l'analisi tecnica. L'analisi tecnica molto spesso, infatti, non viene capita perché non è conosciuta, cioè manca la formazione dietro le spalle e quindi non si capisce perché una resistenza un giorno funziona e un giorno no. Bisogna studiare queste cose, ragazzi. Però oggi ne facciamo un accenno ed è proprio il video di oggi che volevo parlarvi proprio di questa cosa. Allora, intanto, punto numero uno. Le mie operazioni di trading su Bitcoin sono uscite questa notte perché sono andate in trading stop. Ottimo gain per quelle che sono le operazioni in old che eravamo entrati veramente a prezzi molto indietro. Vi faccio vedere a titolo informativo e vi spiego anche perché il long chiuso ieri. Non guardate la percentuale per l'ennesima volta lo dico perché io utilizzo le leve standard di BitGet, ragazzi. Ma sostanzialmente è solo per non usare il capitale. Il capitale è comunque presente sul conto, quindi non c'è la leva, giusto per capirci. Quello che interessa invece comprendere, vedete, l'entry price. Quindi eravamo entrati in questa zona. È stata un'ottima operazione, ma io sono convinto che questa operazione possa essere stata anche una chiusura affrettata. Se non che qui scattano, vedete, le logiche del trader, bisognava comunque chiudere quella operazione perché l'attuale situazione di Bitcoin è estremamente rischiosa e quindi per operazioni con questi profitti, con questi margini che avevano dato enorme profitto, il trailing profit, in questo caso, quindi non trailing stop, trailing profit, e portare a casa i profitti è fondamentale. Poi a quel punto si rigioca un'altra partita, chiamiamolo così, anche se a me non piace ragionare così, e si riparte con la strategia identica come era stata fatta precedentemente, ripartendo da zero. Ma io non sono del tutto convinto che questo movimento rialzista di Bitcoin sia finito qui. Certo, il rischio aumenta in maniera considerevole, ma è proprio quello che fanno anche le manipolazioni. Quindi, allora, adesso andiamo a creare e a capire quali sono i livelli chiave che in questo momento il mercato sta svelando le sue carte in maniera inequivocabile e dobbiamo andare a ragionare su quei livelli lì. Se perdiamo dei livelli di supporto importanti, a quel punto il mercato non ha scampo, farà una fase di presa di respiro, diciamo così. Sì, altrimenti ci sarebbe la possibilità di fare il quarto tentativo del break di questa area. Attenzione, perché proprio come spiego, facciamo così ragazzi, iniziamo dalla questione del supporto. Il supporto in questo momento fondamentale è 29.500, nonché anche il livello di supporto che coincide alla perfezione con la media mobile, in questo caso è la lunga, quindi 21 periodi, che utilizziamo e questa zona, tutta questa zona, tra la media mobile a 11 e la media mobile a 21, tutta quella zona è un'area di supporto. Quindi il fatto che oggi il mercato sia rimbalzando in quella zona è assolutamente normale ed è corretto in questo caso. Però se perdiamo questa zona di supporto, il ciclo di breve e quindi questa fase, che era un nuovo ciclo mensile, iniziato sui minimi di giugno intorno al 12-13, adesso non mi ricordo precisamente il giorno, questa fase qui, che è il ciclo mensile di Bitcoin, se noi perdiamo questo livello di supporto, viene definito. Ciò significa che andrà in chiusura naturale del ciclo mensile. Sono già qualche video che vi dico che secondo me questo ciclo mensile di Bitcoin potrebbe essere più breve e che quindi Bitcoin potrebbe strutturare un ciclo ternario, quindi un trimestrale creato da cicli mensili più piccoli a tre onde. Questo perché secondo me, insomma, ci sono una serie di dati che mi fanno presumere insomma questa cosa, però ovviamente andrà poi confermata dal mercato. Se questa cosa è così, ragazzi, il mercato difficilmente tenterà una nuova quarta onda a rialzo. Se la fa, vi dico dopo che cosa significa. Fate attenzione perché questa cosa è molto importante. Allora, questa zona qui, quindi a questo punto, potrebbe essere l'inizio della chiusura del ciclo mensile di Bitcoin. Il ciclo mensile di Bitcoin potrebbe essere previsto intorno alla settimana prossima in chiusura, quindi a questo punto saremmo in un nuovo ciclo settimanale iniziato proprio sul minimo di questa notte e da lì andare a chiudere il mensile corto di Bitcoin con un ciclo che probabilmente sarà ribassista, ma non è preoccupante. Quindi se questa fase qui fa appunto un balzo e poi va a chiudere questa struttura facendo un touch di questa zona, anche se noi scendiamo sotto questa media mobile, ragazzi, perché questa media mobile a un certo punto, vedete, inizierà a girare, farà così. Se noi scendiamo ma comunque non ci liberiamo del livello di supporto 29.500 e lo facciamo in chiusura tempistica del ciclo mensile, cioè quindi vicino alla prossima settimana, intorno a giovedì-venerdì della prossima settimana, 27-28 giorni, la questione è molto interessante perché a quel punto l'attacco alla resistenza, all'area 31-32, sarebbe solo rimandato alla prossima, alla settimana successiva, quindi alla fine del mese di luglio. Se invece Bitcoin, ragazzi, va a perdere il livello di resistenza che è formato da queste due medie mobili, anche questa è una, ragazzi, una lezione che spiego proprio nel corso, cioè la struttura che queste due medie mobili siano una zona di resistenza e anche la trovate nel libro di Helder, questa tecnica, ragazzi, il nuovo video di trading viene spiegata anche lì. Quindi se perde questa zona di resistenza, di supporto, scusate, e da qui perde anche il livello di supporto statico, quindi 29.500, non c'è freno, diciamo, fino ad almeno questa zona 28.300 e poi è pericoloso perché 28.300 rappresenta l'ultimo baluardo di supporto prima di fare un pullback in questa zona, cioè un pullback del vecchio canale discendente e quindi questo innescherebbe, come vedete, un ritorno palese a un riassorbimento dell'intera struttura rialzista del ciclo di Bitcoin. Questa è, secondo me, la più peggiore di tutte, cioè la struttura così che perde, insomma, Bitcoin che perde in chiusura, ve lo ripeto, deve chiuderci sotto almeno un 4 ore, 6 ore, per, insomma, avere conferma ufficiale il daily, però sappiamo come funzionano le crypto, se aspettate il daily può fare un candelore rosso, no? Allora, questa struttura, se chiude al di sotto di questi livelli, è pericolosa perché poi fa una roba del genere e sta creando il classico BART o il Batman pattern, cioè è un pattern estremamente ribassista questo qui che si sta andando a creare. Ma fin tanto che questo livello tiene, non è cambiato niente, ragazzi, ve lo ripeto di nuovo. L'unica cosa è che questa candela di presa, di liquidità degli short in questa zona, anche se, ripeto, secondo me non molti short sono usciti qui in liquidità perché il livello di stop non era in questa zona, era più alto dei livelli di short. Perciò, secondo me, quello non è una vera presa di liquidità, ma è solo un fake break, ennesimo, un tentativo, ennesimo. E quindi, ragazzi, anche lì si gioca un po' la partita. Quanto è complesso in questo momento, ma quanto è interessante perché? Perché insegna tante cose, in momenti di questo tipo, ragazzi, insegnano tante cose, insegnano a ragionare per chi vuole studiare il training, per chi vuole formarsi, eccetera. Ed è veramente molto interessante, appunto, vedere queste situazioni. Allora, in questa zona, questo è il livello di supporto, come vi dicevo, ed è fondamentale che tengano questi livelli, altrimenti rischiamo quella situazione. Da un punto di vista tempistico, mettetevi la bandierina verso la prossima settimana per la chiusura del ciclo mensile, se siamo in struttura di chiusura del ciclo mensile, questo minimo è probabile che non reggerà, ed è un minimo importante perché è un minimo a 29.500, però non è importante che venga breccato, basta che lo faccia in questi giorni qui. Cioè, vicino alla close, se lo fa domani dopo domani, no, è un disastro. Allora, è un disastro relativo sempre, adesso cambia per qualcosa. Però, no, vabbè, è, diciamo, una cosa negativa per Bitcoin. Questa zona qui, quindi, se lo fa invece verso la fine, mi fa lasciato piccolina, chiude sul minimo e poi rimbalza, tutto secondo i canoni dell'analisi ciclica, quindi lì non c'è alcun problema. Passiamo invece alla seconda ipotesi, cioè quello che vi dovevo dire, la parte, secondo me, molto rilevante del concetto di aver fatto questo triplo massimo per Bitcoin. Cioè, se questa zona regge e Bitcoin tenta invece l'ennesimo assalto, prima della chiusura del ciclo mensile, cioè prima della prossima settimana, a breve, allora, secondo me, questa zona perde rilevanza, ragazzi. Perché, come spiego in quel modulo del corso, quando un livello di resistenza o di supporto viene toccato ripetutamente dal mercato, non diventa più un livello consistente, cioè perde la sua forza. Se viene toccato e risulta estremamente importante, il mercato lo fa uno o due volte. La terza è già tanto, ragazzi, cioè il triplo massimo è già tanto. Il quadruplo massimo, il quintuplo massimo non esiste, quindi non sono figure di inversione, non sono pattern quelli lì, ragazzi. Sono tentativi del mercato di rompere quel livello di resistenza con forza. Cioè, il mercato ha riacquistato la sua forza e va verso quella direzione per breccarlo e cercare di romperlo. Quello diventerebbe un segnale di enorme forza. Al contrario, appunto, invece di un doppio massimo, che è un segnale di pericolo. Ma il triplo massimo ci sta ancora. Ma se noi andiamo ulteriormente, fra qualche giorno, a tentare il break di quest'area, e a quel punto, ok, sì, il mercato magari la sentirà un pochino, ma questa zona si indebolisce. Questo è il discorso. Quindi lì, ancora di più, il mercato potrebbe avere, probabilisticamente, la spinta finale per breccarla. Perciò, ragazzi, vedete com'è importante a questo punto il nuovo tentativo di rimbalzo in questa zona di Bitcoin. Se lo fa, avrà buone chance di bucare questa resistenza. C'è sempre probabilità, parliamo, però le probabilità aumentano. Questo vi sto dicendo. Altrimenti non ci andiamo più, secondo me, fino al prossimo ciclo annuale. Allora, questa è un'ipotesi molto brutta, non mi piace, non la voglio accettare in questo momento, però i prezzi target dell'anno sono stati raggiunti, quindi non è che suona così tanto strano. Se il mercato da qui fa sali e scendi e regalano i trader il Bancomat, in questo caso, perché se fa così, noi siamo, insomma, in una botte di ferro, perché è più facile per i trader gestire trend più piccolini. E se invece non lo fa, continua a salire, ma deve tentare questo break. Quindi, questa questione qui è molto bella da vedere, ragazzi, e sarà, secondo me, la narrativa dei prossimi giorni, delle prossime settimane, perché se Bitcoin vuole aspirare a arrivare benemente intorno ai 35.000 e passa, deve ritentare il break di questo livello. A quel punto, secondo me, ce la può fare tranquillamente a bercare questa zona. Potrebbe, per esempio, tentare di farlo nel prossimo ciclo mensile, quindi assumere questa struttura della prossima settimana, quindi questo ciclo settimanale, come fase di respiro, riflessione, e poi tentare di andare successivamente a fare questo break. Oggi ho fatto solo un'anesi ciclica, perché nel video precedente avevo detto che vi avrei detto questa mia idea, ma non sono riuscito a farlo, perché è venuto un video abnorme di 25 minuti, quindi qualcuno me l'ha fatto notare nei commenti, e quindi eccovi il video che volevo aggiungere. Poi, comunque, vedete, è troppo complesso, anche da spiegare in pochi minuti, quindi ho preferito dedicare un video intero. Quindi questa, secondo me, struttura, in questo momento, cioè un settimanale che non va molto giù, fa barra di congestione, poi mi chiude in questa zona un ciclo che secondo me sarà ciclo mensile, è interessante perché potrebbe spingere poi successivamente Bitcoin al prossimo ciclo mensile, al tentativo di fare il quarto test di questa zona, e a quel punto forse fare una cosa del genere. Attenzione, perché comunque di grandi sviluppi, secondo me, a livello di price verso l'alto, non ce n'è, a meno di grandi news, cioè nel senso o escono fuori news relative all'ETF, eccetera, importanti, oppure a livello solo di analisi tecnica, andare da 30.000 a 42, ragazzi, non è così, diciamo, semplice, non ci sono grandi margini. 35 sì, però capite bene la differenza, no? Non è l'app che abbiamo visto da novembre, però comunque è pur sempre un'app, e se gestito bene anche questa fase, potrebbe essere interessante. Allora, questa è la view che mi piace più di tutti, ve lo dico e ve lo confermo, e vediamo se il mercato la fa, se il mercato la fa, io mi giocherò le mie carte, anche da trader, in questa zona, proprio come vedete, questa struttura che vi sto mostrando. Le view più complesse sono quella del break immediato di questa zona, che è estremamente ribassista, e poi l'altra view, che è anche molto complessa, seppur può sembrare, diciamo, iper rialzista, è l'immediato tentativo, cioè entro uno o due giorni, di risalita intorno a questa zona. A quel punto, va a mischiare molto le carte, il mercato non ci dà una sicurezza, che qui sia iniziato un nuovo ciclo importante, potrebbe essere l'ennesimo fake, quindi cambiano veramente tante cose. La soluzione che vi ho detto finale, cioè quella di attendere una settimana, in una specie di barra di congestione laterale ribassista, sarebbe la soluzione migliore, quella che conserva più forza, ma come sempre sappiamo, il mercato ci mette il piede, ci fa lo sgambetto, quindi preparatevi a qualsiasi cosa, ma mettate una di queste, so, l'orecchie ci piove, però io tendenzialmente propendo, per quella più classica, che vi dicevo, quindi io seguirò quel tipo di analisi. Ogni tanto comunque i mercati, fanno anche le cose semplici, quindi vediamo, crociamo le dita, magari sarà quella, e la gestiremo alla grande. Per oggi è tutto, fatemi sapere invece voi, cosa ne pensate di questa fase, secondo voi la giornata di ieri, con quel pump and dump improvviso, ha segnato il massimo dell'anno 2023, che cosa ne pensate, scrivetelo nei commenti, confrontiamoci come sempre, noi ci rivediamo nel prossimo video, buon weekend a tutti.